L'amatissima autrice di Beastars si racconta. Sono il vostro amico Akuma e su questo è AnimeManga.it in pillole e oggi vi parliamo di Paro no Graffiti di Paro Itagaki. Paro no Graffiti è un manga autobiografico che racconta la vita quotidiana della famiglia di Paro Itagaki. Brevi capitole autoconclusivi mostrano il rapporto della protagonista con le sue sorelle, i genitori, il nonno e il lavoro. Scopriamo come ha deciso di diventare una mangaka e vediamo alcuni eventi che l'hanno segnata. Un'opera semplice ma emozionante che ci fa conoscere la vita di un'autrice straordinaria. Volume unico pubblicato in Giappone nel 2019, Parno Graffiti arriva in Italia per Planet Manga al prezzo di 9,90€. Il volume è caratterizzato da grande formato, 15x21, bellissima sovraccoperta opaca, rilegatura solida e bianchissime pagine piacevoli da sfogliare. Parno Graffiti è un vero e proprio tuffo nella semplice e straordinaria quotidianità di Paro Itagaki. L'autrice riesce a esaltare i piccoli dettagli di ciò che viviamo ogni giorno donando grande forza al manga. La narrazione è caratterizzata da una sincera capacità di rendere emozioni e pensieri unici che spingono ad un tenero sorriso. Ogni personaggio è disegnato in modo distintivo e unico con tratti molto particolari e diretti conferendo ulteriore simpatia ai racconti. Altrettanto simpatica è la scelta del titolo che non solo richiama la nota band j-rock giapponese Porno Graffiti, ma che traslitterato in Paro e No Graffiti si può tradurre in i disegni di Paro. Parno Graffiti è un manga ideale sia per chi cerca una lettura simpatica e leggera, sia per gli appassionati di manga, autobiografici e slice of life. Ovviamente per ulteriori approfondimenti trovate in descrizione il link alla recensione completa e altre informazioni utili. Dal vostro comezzo è tutto, grazie per averci seguito e alla prossima pillola.